Allora Seba, non inizia nel migliore di modi questo nostro anno solare, questo 2021? Il big match al Palabarton se lo porta a casa Trento? Sì, peccato cominciare così, ma dobbiamo essere consapevoli che non è stata una bella partita, abbiamo giocato male. Questo la dobbiamo guardare con la testa in su e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento. Quello che ho sentito io, tanti alti basi, spesso sembrava che giocavamo bene, dopo abbiamo avuto un paio di calli, ma secondo me dobbiamo essere consapevoli che è stata una brutta partita e che possiamo migliorare. Partendo dei fondamentali, oggi abbiamo fatto fatica a mettere giù i palloni, salviamo il muro, molto presente a muro e salviamo soprattutto la reazione nel secondo set, dopo il pazzo primo set per come si è concluso. Sì, di sicuro il problema più grande è stato l'attacco, sicuramente, sono sicuro che è andato male in questo ruolo che spesso ci viene bene. Questa volta ci siamo riempiti sicuramente di errori, non so adesso devo dirti, però abbiamo preso murate, errori che magari erano da evitare. Sì, quindi tutto altro, sommato, abbiamo fatto belle cose, sicuramente è questo che dobbiamo migliorare, trovare il ritmo in attacco. Ritmo che ancora una volta si fermerà per una settimana, ritmo partita, mi riferisco a quello. Tra una settimana c'è l'operazione riscatti, il tentativo di riscattare subito questa sconfitta e si andrà a Ravenna. Sì, sì, certo, guarda, qua noi siamo persone, giocatori, da domani ci alziamo con la testa su, abbiamo tempo di lavorare. Una settimana piena di miglioramento, secondo me, questo che adesso dobbiamo sfruttarlo, magari abbiamo due partite lontanate che sicuramente ci daranno la possibilità di lavorare tantissimo.